Beh, allora ragazzi, come è andato il concerto? Secondo me è stato splendido, un grandissimo Pietro. Bravo, 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 emozioni bellissime, guarda. Però io non mi aspettavo contenuti e poi anche artisti di strada, insomma, pensieri anche importanti mentre cantavo. Molto bello, molto bello. Pietro è un grande, quindi lui ha preso un po' tutto un po' l'alto, quindi è stato super bravo. Più di due ore di live. Incredibile, ci sono persi qualcosa. Secondo me sì. Io credo di sì, perché guarda, io tra l'altro quando non c'erano mai stato, e devo dire anche che ho un teatro bellissimo, poi le emozioni di questa sera noi che facciamo questo lavoro, che è più o meno uguale, è stata un'emozione veramente... Anche alla prossima volta, aspettiamo voi. Eh, magari. Ok. Magari, ciao. Ciao. Grazie.